Ciao, nonna. Ma che cosa ci fai qui? Tua nonna mi ha detto che sei un famoso avvocato ambientale a Sensinati. Io sono un avvocato d'azienda. Le difendo le aziende chimiche. Beh, ora puoi difendere me. Quante ne hai perso, esattamente? 190. Secondo te non c'è niente di strano qui. E' pieno di sostanze chimiche. Ho trovato dei documenti che non capisco. Stanno nascondendo qualcosa. E se quello che sta uccidendo le mucche si trovasse nell'acqua potabile? Se qualcuno la bevesse, quell'acqua... Scherzi. Ingogliare una bottiglia di plastica sarebbe la stessa cosa. Qui a DuPont la chimica è il nostro DNA. Dimmi che cosa sta succedendo. DuPont sta deliberatamente avvelenando 70.000 residenti da oltre 40 anni. Ti rendi cura. Quindi tu sei pronto a raccontare tutto quello che sai per combattere una delle più grandi aziende degli Stati Uniti? Come fosse un informatore. Non è così. Non è così. È così o no? Sì. Il sistema è corrotto. Sei disposto a mettere a rischio il tuo lavoro, la tua famiglia per uno sconosciuto? Solo perché ha bisogno d'aiuto? Vogliono farci credere che ci proteggono. Ma noi dobbiamo proteggerci. Da soli.